Il rischio di un autunno caldo con episodi di rabbia sociale dovuti all'emergenza Covid in Italia è concreto? Parla così il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese ad Agora Estate. La ascoltiamo. Il rischio è concreto perché noi a settembre, ottobre, vedremo gli esiti purtroppo di questo periodo di grave crisi economica che ha colpito le aziende, quindi noi vediamo negozi chiusi, vediamo cittadini che tante volte non hanno la disponibilità neanche di provvedere ai propri bisogni quotidiani, ma il Governo ha posto in essere tutte le iniziative necessarie cercando di andare incontro a queste esigenze e queste necessità. Il rischio però è concreto e io d'altra parte vedo oggi anche un atteggiamento talora di violenza nei confronti delle nostre forze di polizia, a cui deve andare non soltanto il mio ringraziamento, ma quello di tutti gli italiani, perché le forze di polizia tutelano quello che è l'ordine democratico, con la sicurezza dei cittadini e tante volte non viene inteso in questi termini e quindi questi comportamenti violenti che vengono adottati nei confronti di chi ci tutela, secondo me sono assolutamente da condannare.